E' stato condannato a 27 anni per omicidi e soppressione di cadavere grazie a Innalabi. Il frate congolese accusato di aver ucciso è fatto sparire Guerina Piscaglia il primo maggio 2014 a Caraffaello, una località nell'Appennino Aretino, al confine con Emilia Romagna e Marche. La Corte d'Assise di Arezzo ha dunque accolto la tesi del PM Marco Dioni. Il religioso era presente in aula alla lettura della sentenza. Di Guerina Piscaglia non si hanno più notizie dal primo maggio 2014 quando è stata vista per l'ultima volta fuori casa sua a Caraffaello mentre stava andando in parrocchia. Un giallo in piena regola, durato quattro anni e in realtà ancora in corso perché del corpo della donna non c'è alcuna traccia. Padre Graziano Alabi, al quale Guerina era molto legata, si è sempre dichiarato innocente. I due erano amici, secondo qualcuno del paesino addirittura amanti. Sta di fatto che erano visti spesso insieme, quindi la scomparsa della donna. Oltre due anni fa le indagini puntarono subito dritto su di lui. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna, sposata con un figlio di 24 anni, si era perdutamente innamorata del frate e durante un furioso litigio innescato dal suo attaccamento eccessivo verso il religioso, lui l'avrebbe strangolata per poi occultare il cadavere. Ad accusare il sacerdote sono stati soprattutto i tabulati telefonici, 4.000 messaggi scambiati tra i due. Alcuni di questi sono stati inviati dopo la scomparsa della donna, falsi, secondo la polizia di Arezzo, e inviati dallo stesso sacerdote per far credere che Guerrina fosse ancora viva.